Chi di voi conosce le sedici parole del discorso del presidente Bush che ci hanno portato in guerra? Chi di voi sa come si chiama mia moglie? Allora, come fate a sapere questo e non quello? Quando è che la domanda è cambiata da perché stiamo entrando in guerra a chi è la moglie di quest'uomo? Io ho posto la prima domanda, ma qualcun altro ha posto la seconda e ha funzionato. Perché nessuno di noi conosce la verità. L'attacco che è stato sferrato non è stato sferrato contro di me, non è stato sferrato contro mia moglie. È stato sferrato contro di voi, tutti voi. Se questo vi fa arrabbiare e non vi fa sentire rappresentati come vorreste, fate qualcosa ragazzi. Quando Benjamin Franklin uscì da Independence Hall subito dopo la seconda stesura della Costituzione, in strada fu avvicinato da una donna che gli chiese «Signor Franklin, che sorta di governo ci avete lasciato in eredità?» E Franklin disse «Una repubblica, signora. Se saprete mantenerla, la responsabilità di un paese non è nelle mani di pochi privilegiati. Noi siamo forti e siamo liberi dalla tirannia. E lo saremo finché ognuno di noi avrà sempre in mente qual è il suo dovere di cittadino. Che sia per chiedere conto di una buca in fondo alla strada, o delle bugie in un discorso sullo Stato dell'Unione, fatevi sentire, fatele quelle domande. Pretendete la verità. «Nessuno vi regalerà mai la democrazia, statene certi. Ma questa è la nostra democrazia. E se facciamo il nostro dovere, sarà la democrazia in cui i nostri figli vivranno. Dio benedica l'America». Grazie. Grazie.